Musica Cari amiche, cari amici di Erosini TV, bentornati al nostro appuntamento serale del lunedì con check-up obiettivo salute dal salotto di Fisionadi. Questa sera è di nuovo con noi, dopo la bella esperienza dell'anno scorso, Andrea Valentini, fisioterapista. Andrea buonasera. Buonasera, grazie per essere di nuovo vostro ospite. Grazie Andrea, è davvero un piacere per noi, siamo contentissimi di averti. Andrea Valentini, una formazione fatta fra Bari e Roma, fisioterapista per passione, proprio per il gusto di fare questa bellissima pratica medica, è specializzato in linfodrenaggio. Tu a un certo punto hai deciso di approfondire, di specializzarti in questa pratica. In cosa consiste esattamente? Tentiamo di capirla bene Andrea. Diciamo che la maggior parte della fisioterapia riguarda trattamenti di natura muscolare, scheletrica, articolare e nonostante ci siano tantissime cose da approfondire, da sapere, negli anni si è evoluta come professione e adesso non è più limitata solo a ciò che riguarda l'apparato muscolo-scheletrico ma anche a tutto il contorno, quindi il sistema vascolare, respiratorio e anche quello linfatico sono delle aggiunte, delle componenti che non escludono il resto della fisioterapia ma si aggiungono, quindi dei trattamenti che vanno a migliorare anche quello che poi viene fatto a livello osteomuscolare, articolare, come apparati, come riabilitazione ci dà un'arma in più. Quindi diciamo anche un po' come una sfida perché l'infodrenaggio è una tecnica molto leggera, molto delicata e è un po' l'antitesi di quello che in realtà avevo fatto prima di iniziare perché mi piace andare forte con i pazienti, con le manovre e quindi anche un po' una sfida dal punto di vista tecnico. Diciamo che inizialmente ero un po' titubante, c'ero curioso però dall'altra parte ti dicevo ma effettivamente io non lo vedo fare quasi nessuno, ce l'avrà del valore reale, in realtà come ti dicevo se incastrato bene all'interno di un percorso riabilitativo effettivamente fa parte di quelle tecniche che non solo migliorano la qualità di vita del paziente ma ti danno anche la possibilità di lavorare in delle articolazioni che magari sarebbero più rigide o più gonfie, migliorano in alcuni casi proprio la qualità di vita della persona, ci sono delle persone che nascono con dei grossi evidenti diciamo problemi, condizioni di natura linfatica che senza un trattamento che coinvolge anche il linfodrenaggio non potrebbero proprio fare quasi niente perché il minimo taglio, il minimo spostamento, anche un'attività fisica magari un po' intensa dà diciamo un'impossibilità nel compiere gesti anche quotidiani. Esatto Andrea, proprio questo mi piaceva approfondire insieme a te, il sistema linfatico. Innanzitutto da quello che hai detto è evidente che il nostro organismo è un insieme, un insieme di tantissime composizioni che devono andare tutte sinergicamente a lavorare in un certo modo quindi è chiaro che introdurre un elemento nuovo in una pratica come quella che hai descritto della fisioterapia attraverso il linfodrenaggio non può che essere positivo perché davvero allarghiamo il raggio d'azione. Ma il sistema linfatico esattamente che cos'è? Perché noi abbiamo chiaro il concetto di sistema vascolare, vene e arterie, invece il sistema linfatico che cos'è esattamente? Diciamo che fino a una trentina di anni fa, nonostante sia un sistema conosciuto già dai primi dell'Ottocento, quindi ha una lunga vita, è sempre stato un po' oggetto di mistero, perché uno sente anche il sistema circolatorio arterioso, venoso, il sistema linfatico è sempre stato un po' oggetto di folklore, un po' di poca conoscenza, che poi è una conoscenza diciamo anche ridotta per i tecnici, quindi non solo per le persone ma anche all'interno delle varie specializzazioni di prescrizioni ancora dovrebbero essercene molte di più rispetto alla realtà dei casi che ci sono a tutti gli effetti. È perché è un sistema periferico che si interpone tra il sistema arterioso e il sistema venoso, quindi diciamo non occupa tranne alcune componenti dei veri e propri spazi fisici, almeno inizialmente, perché tra le cellule praticamente c'è uno spazio quasi risorio in cui però la cellula ha bisogno di mettere all'esterno, cioè di buttare via le sostanze di scarto e in più il corpo ha la necessità di inserire o scambiare sostanze all'interno di spazi che sono microscopici, quindi inizialmente si parla di unità poco visibili anche al microscopio. Questo finché poi, come per il sistema arterioso e venoso, il sistema linfatico ha un gruppo di vasi che vengono chiamati vasi linfatici che hanno un loro diametro, hanno un volume, hanno anche diciamo una visibilità maggiore a livello microscopico ma che poi confluiscono in veri e propri dotti, quindi alla fine si arriva in dei canali che hanno le stesse dimensioni di arterie e vene, perché da qualche parte questo sistema linfatico deve confluire e nel corpo abbiamo due grandi dotti che sostanzialmente permettono poi di agganciarsi al sistema venoso e permettere le sostanze di scarto di essere eliminate ma anche al contrario di far filtrare quelle che a noi ci servono, cioè quelle del sistema immunitario, tant'è che degli organi che noi abbiamo nel corpo come la milza, il timo, hanno proprio il ruolo di aiutare e di essere organi linfatici e ci servono per evitare infezioni, infiammazioni eccessive, per gestire uno stato infiammatorio nel corpo, oltre ai più famosi linfonodi che hanno un numero contato, limitato nel corpo e qui entra in gioco anche linfodrenaggio perché se per un motivo questi linfonodi vengono a ridursi o addirittura a non esserci più in alcuni punti del corpo non hai più la possibilità di filtrare quello che c'è all'interno di di un arto, quindi per esempio a livello della gamba ne abbiamo alcuni a livello inguinale molto importanti e magari in un soggetto che per un intervento ha dovuto asportare questi linfonodi certamente, quindi non c'è la possibilità, certamente quell'arto non sarà più come l'altro, tenderà a gonfiarsi, le sostanze di scarto verranno scartate più lentamente. Quindi praticamente il sistema linfatico ha un ruolo quasi di pulire, di pulire il sistema circolatorio. Pulire, controllare per evitare come una stazione, una dogana, quindi ferma le sostanze che non servono o che comunque potrebbero essere nocive. Fa passare quelle di scarto e in più fa arrivare quelle che invece ci servono come i linfociti, quindi tutta la parte del sistema immunitario viene delegata anche all'apparato, al sistema linfatico. E ci sono secondo te delle persone che sono più inclini a dover avere questo tipo di trattamento rispetto ad altre anche in una situazione fisiologica non particolarmente patologica. Sì, diciamo che oltre ai chiari contesti o dalla nascita, come ti dicevo, o contesti postchirurgici o in seguito a una lesione, dare una mano al sistema linfatico è importante perché è un sistema che è più lento rispetto al sistema vascolare arterioso e venoso. Funziona un po' più lentamente perché ha la necessità di controllare, quindi ha dei tempi ridotti. Di conseguenza anche in persone che magari non fanno molta attività fisica o con l'avanzare dell'età, con la progressione di fenomeni di artrosi, anche fenomeni osteoporotici o dopo una gravidanza, ci sono tutte le condizioni per un rallentamento ulteriore del sistema linfatico e molto spesso il corpo non segnala perché non dà sintomi, a parte un senso di pesantezza dell'arto, un po' di affaticamento in più, però non dà sintomi come il dolore, non dà sintomi come il bruciore, quindi non è molto caratteristico da quel punto di vista e magari una persona si accorge di una disparità tra un arto e l'altro, però lo trascura. Quindi anche per persone che fisiologicamente a tutti gli effetti non hanno delle patologie, delle condizioni particolari, comunque dare una mano al sistema linfatico per poi semplicemente riattivarlo, comunque dargli un po' di sprint, certamente di aiuto, viene utilizzato anche in estetica. Ecco, infatti ti volevo proprio chiedere questo perché molto spesso magari si rischia di fare confusione e quindi dire esatto vado a fare un trattamento estetico e mi fanno un linfodrenaggio, però in realtà c'è differenza fra un'azione estetica rispetto a un'azione fisioterapica. Sì, diciamo che la cosa bella che ultimamente hanno dato al nome del trattamento non solo linfatico ma la gestione della persona con problematica linfatica è il nome di fisioterapia complessa, quindi l'infodrenaggio entra a far parte di una delle varie caratteristiche di questo trattamento fisioterapico complesso a livello linfatico. Quindi sicuramente l'estetica aiuta da quello che può essere un punto di vista olistico, quindi certamente per il benessere della persona anche un po', perché spesso viene associato a un trattamento rilassante, quindi ha una sua valenza da quel punto di vista. Il trattamento fisioterapico ha una valenza medica, quindi viene utilizzato con delle tecniche sicuramente diverse, sicuramente più specifiche e che hanno un fine di tipo riabilitativo e sicuramente dal punto di vista clinico va anche intrapreso un percorso molto più complicato di quello che può essere un massaggio o un drenaggio diciamo di tipo estetico. Di sicuro entrambi i trattamenti lavorano su ciò che è linfatico, quindi sulla parte diciamo più superficiale del nostro corpo, quasi sotto cutanea. Dall'altra parte però la differenza nelle tecniche è evidente, il trattamento linfodrenante è composto da tecniche, da manovre più che un massaggio a tutti gli effetti, viene proprio lavorata la linfa lavorando su quelle che sono le linee tecniche del sistema linfatico e in più lo scopo è quello di fare in modo che il sistema si riattivi a 360 gradi e se c'è la presenza di un edema o comunque di un gonfiore eccessivo andare a livello clinico a lavorare su quel tipo di problematica consapevoli però che dietro c'è sicuramente anche un intervento di tipo medico specialistico, quindi un paziente potenziale anche, perché magari non lo sa, o un soggetto che ha il dubbio o il sospetto di avere una condizione del sistema linfatico in sé, c'è il rischio che facendo un trattamento di tipo estetico vada a fare un lavoro opposto, quindi invece di aiutare il corpo a eliminare, magari veicolarlo in delle zone dove non è corretto. Quindi chiaramente sempre l'intervento del professionista, del medico, sempre la solita sinergia fra queste due figure e peraltro qui in Fisionati Medical Center immagino che questa pratica comincia a essere abbastanza utilizzata. Sì, la cosa bella del team che Maurizio ha costruito è che tra di noi ci si interfaccia molto e quindi anche se uno di noi ha in gestione un paziente del centro, che magari non sappiamo chi è, ma giustamente l'altro collega sì, il collega è tra di noi, abbiamo questo bell'approccio combinato anche nel parlarci, nel scambiarci delle informazioni relative alla condizione clinica in cui magari può sfuggire a qualcun altro, ma a noi invece ci viene ben nota, anche una condizione di un paziente che non è direttamente sotto le nostre terapie e che magari ha bisogno di qualcosa che un collega specializzato in qualcos'altro invece sa fare, può fare. Quindi per dire se so che un paziente che ho in gestione ha bisogno di un trattamento di RPG sicuramente mi rivolgerò a Francesco, se c'è un paziente in gestione, un altro collega che avrà bisogno dell'infodrenaggio si rivolgerà. Quindi grande collaborazione fra tutti i fisioterapisti della struttura. Andrea, dicevamo all'inizio tu hai studiato a Bari, a Roma, ma in realtà perché? Perché tu sei di Taranto, sei di origine pugliese e mi viene da farti abbastanza spontanea la domanda. Come ci sei arrivato a Pesaro? È una bella domanda. La fisioterapia in Puglia mi ha sempre tenuto un po' stretto. Diciamo, io sono arrivato fino all'ultimo anno di università che ero ancora titubante. Non sapevo se la professione effettivamente mi piaceva o no, perché la realtà di Taranto è nota a tutti. Diciamo che avrei voluto già da subito sapere quello che potevo fare come fisioterapista. Quindi ho sempre tenuto un po' il freno a mano, ma perché non conoscevo ancora la realtà di strutture come questa, della complessità dell'interazione che poi c'è tra gli specialisti. Ormai lo sai che parli quasi romagnolo pesarello. C'è una cosa divertente che mi piace fare con i pazienti, perché avendo vissuto un po' a Taranto, poi un po' a Roma, un po' a Bari, adesso qui, poi ho vissuto anche un po' altri piccoli periodi all'estero anche, sono di origine per metà pugliese e per metà piemontese. Quindi la cosa che mi piace molto con i pazienti è aspettare che mi fanno la fatidica domanda, ma tu di dove sei? E io ti indovina. Se fai, se rispondi bene, ti tratto bene. Ah ecco, quindi occhio ai massaggi di Andrea. Adesso avete la possibilità di saperlo, perché abbiamo detto che sei pugliese, e oltretutto hai anche una grande passione sportiva per uno sport che non è di immediato riscontro, il pugilato. Da dove ti nasce anche questa passione per uno sport comunque atipico? All'inizio è nata un po' per caso. Ho iniziato con degli amici, più per allenarmi. Poi avevo un po' tenuto nascosta questa cosa ai miei genitori, perché tornare a casa con due lividoni in faccia era un po'... E quindi come li giustificavi? Dicendo che facevi l'infodranaggio? Non facevo ancora l'infodranaggio, se no me li aggiustavo da sopra. Ok. No, no, diciamo che li coprivo bene, sì sì, c'è voglia mi ghiaccio. E poi un giorno ho confidato a mia madre questa cosa e lei mi ha detto ma tu lo sai che tuo nonno, che per me è stata una figura molto importante nella vita, si alzava alle 4 di mattina per vedere in tv gli incontri di pugilato, perché in quell'epoca per vedere una diretta dovevi collegarti all'ora in cui quel paese trasmetteva il programma, quindi per loro magari pomeriggio da noi era alle 4 di mattina. Quindi questa cosa ha alimentato ancora di più questa passione e ho cercato ovviamente di un po' rendere indirettamente o direttamente fiero mio nonno, anche la mia famiglia, perché un po' l'ho presa più a cuore, quindi da un gioco e poi l'ho presa più seriamente, è diventato... Una passione autentica. Sì, una passione autentica e dopo ho dovuto anche un po' decidere tra il lavoro e lo sport, diciamo che adesso è più a livello dilettantistico, perché se mi faccio male poi... Se ti fai male dovrai venire qui e troverai qualcuno che ti sistemerà. Peraltro hai fatto questo riferimento ai tempi di trasmissione delle dirette. Noi su Rossini TV siamo più facili da raggiungere tutti lunedì sera alle 9.20 e in più con tutte le nostre repliche, quindi partiamo avvantaggiati Andrea da questo punto di vista. Un'ultima domanda. Tu hai detto Taranto, sapete tutti che realtà è? Una realtà difficile, perché non è una città facile. Sappiamo delle realtà economiche legate anche a recentissime vecende, proprio che ci legano all'Ilva, tutte le conseguenze di questa situazione così difficile da comprendere, però è in uno dei posti d'Italia più belli in assoluto. Siamo alle porte del Salento e quindi, siccome lo facciamo sempre questo riferimento per i nostri ascoltatori, li prepariamo a fare una bella gita estiva in questo meraviglioso posto, a questo meraviglioso luogo della Puglia, dove ci diresti di andare per andare un pochino fuori dai soliti itinerari, Andrea? Io vedo un po' quando chiedo anche ai pazienti, ma dove vai in Puglia? E so già la risposta. Salento. Però il Salento è lungo. Esatto. E diciamo che un po' la meta fissa è Lecce, Gallipoli, sono troppo giù. Io sono abituato a quando ero ragazzino che prendivi Pullman, andavi un po', dove non andavano troppi turisti, quindi il mio consiglio è Marina di Lizzano, che è una vera e propria perla, è una piccola conca, non è troppo distante da Taranto, però ultimamente ha avuto anche tanti premi per quanto riguarda Bandiera Blu, anche la gestione da parte dei cittadini, di chi ci vive, è molto bella perché ci tengono molto, non è inflazionata da... speriamo adesso... Non è inflazionata, però... Dopo questa intervista che vedremo a tutti gli enti turistici di Marina di Lizzano lo diventerà. Non è inflazionata e poi è in una zona così particolare tra il Tirreno e lo Ionio, da avere questa caratteristica di essere cristallina come acqua, la sabbia è molto bella, non c'è tanta gente, quindi a chi non piace la folla è il posto perfetto, e poi comunque è una realtà che è vicina a tante altre bellezze della Puglia, quindi una volta che una persona ha fatto il bagno lì si può spostare e vada per tutto. Perfetto, Andrea, chiudiamo rapidamente con una novità che potrebbe essere qui presto realizzata al Fisionadi Medical Center, tu potresti tra poco occuparti anche di fisioterapia pediatrica. Sì, l'ho inserita tra le sfide di quest'anno, perché non mi piace stare nella zona di comfort, gestire i pazienti linfatici, gestire categistiche neurologiche è complesso, e sono dell'idea che gestire il bambino e le condizioni e le patologie che possono, dal punto di vista fisioterapico, coinvolgere la fascia dagli 0 ai 12, 13 anni, nell'infanzia è una cosa bella, perché è fatta anche quella da una nicchia, ma in più è un po' una sfida personale, perché la persona un po' ci puoi parlare, puoi capire la progressione, puoi capire come muoverti diversamente, nel bambino no, o almeno ci sono altri canali, e quindi mi piace sfidare un po' questa nuova realtà e intraprendere questo percorso. Benissimo Andrea, grazie Andrea Valentini per essere stato con noi questa sera. Grazie a voi, sempre un piacere. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, vi rimandiamo a lunedì prossimo con la nuova puntata di Check Up Obiettivo Salute su Rossini TV. Buona serata a tutti voi. Grazie a tutti.